Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Cosa non si fa per salvare un bab? La cantante Angelina Mango ha rischiato la sua incolumità per salvare un dolce napoletano cadendo dalle scale dell'aereo. La cantante ha raccontato di essere oberata di bagagli e oggetti, ma di aver sacrificato il suo ginocchio per evitare che il bab toccasse terra. Angelina ha spiegato la dinamica dell'incidente, mostrando la sua gamba ferita e rassicurando i fan che non c'è nulla di grave. Dopo una visita medica che ha confermato una lieve tendinite, la cantante dovrà stare a riposo per quattro giorni, ma fortunatamente non ci sono conseguenze serie. Nonostante l'incidente, Angelina Mango è pronta per il suo tour autunnale in Italia, con tutte le tappe già sold out. Il 2024 si prospetta come un anno fortunato per la cantante, che ha vinto Sanremo, partecipato all'Eurovision e pubblicato un nuovo singolo, POC Melodrama, che sta riscuotendo un grande successo. I fan della cantante le augurano una pronta guarigione e non vedono l'ora di poterla applaudire sul palco durante il tour. Angelina Mango si è dimostrata determinata e coraggiosa nel salvare il suo dolce preferito, dimostrando ancora una volta la sua passione per la musica e il suo talento.